Sulla scena di Sulla scena di Donnacce con le protagoniste di questa splendida commedia e siamo qui al Teatro Manzoni. Raccontateci che cosa accade. Siamo due donne un po' ormai ex prostitute, diciamo due zoccole, ma ormai in declino perché abbiamo un po' abbandonato il nostro mestiere. Ne decidiamo di fare un viaggio, partire per l'Egitto per Shammeshik, io contraria perché ho paura dell'Ero, lei invece scatenata che invece vuole partire per questo viaggio e mentre stiamo organizzando il tutto arriva da quella finestra un uomo mascherato che porterà con sé una serie di misteri, misteri di tutti i tipi che faranno in modo che i nostri personaggi cambieranno a seconda di questa sua venuta. Cioè sia io che lei ci sentiamo totalmente spaisate da quest'uomo che è un po' negativo, un po' ombroso e che ha un segreto molto profondo. La mitica Fioretta Mari, svelaci un po' di questo personaggio. Com'è questo? Tindra, allora parlare di questo personaggio è un po' problematico perché non si può levare niente alla sorpresa di questo spettacolo che è uno spettacolo giallo. Però stranamente è uno spettacolo che manda dei messaggi. Sono arrivati tutti, li hanno capiti tutti e hanno capito anche che si tratta dentro lo spettacolo di due storie vere. Una di una ragazza che è stata, va bene così, da piccolina e la storia di un personaggio che le ha combinate proprio le cose che noi sveliamo. E questo è stato recepito completamente dallo spettacolo. La particolarità di questo spettacolo sta che in un momento come quello che viviamo, cara Teresa, è una cosa come sai ti arrivasse un soffio di primavera in mezzo alla neve. Arriva a questa, è questo spettacolo dove ti diverti, ridi, applaudi, ti commuovi perché ci si commuove anche. Ma la cosa bella è che io quando entro in scena mi sento proiettata in questo strano mondo che è il mondo delle prostitute. Che io amo molto e ammiro grazie a Nino Manfredi che me le ha fatte conoscere. Blas, che cosa succede? A un certo punto entri in scena, tu, dal balcone, giusto? Il personaggio mio è meraviglioso perché parte bianco e diventa nero o parte alfa e diventa omega. Insomma è una cosa, è il suo contrario. Per un attore è il massimo della libidine. Io entro in scena mascherato in un modo assurdo, allucinante. Ero molto in imbarazzo per i miei figli che erano in prima fila ieri sera. E poi invece si tramuta in uno squalo, in un politico molto potente, molto cattivo e davvero molto divertente. Perché sono molto più divertenti i cattivi in teatro. Nella vita bisogna essere buoni, ma in teatro bisogna essere cattivi perché ci si diverte tanto di più. Vero, vero. Tre ragioni per vedere questo spettacolo. Chi ce le dice? Ce l'ha qui sul divano? Uno, due, tre. Ottimi attori e poi soprattutto è vero che si capovolgono un po' i ruoli. Cioè nel senso che magari il politico non ha la psicologia di quello che uno pensa, no? Quanto è importante nel teatro quando c'è una bella storia, quindi captare l'attenzione del pubblico? Ci proviamo a farlo immediatamente. Ieri hanno reagito molto bene, cioè la gente immediatamente è catturata da questa storia. perché all'inizio c'è queste due un po' matte, un po' strambe che raccontano, si raccontano. Poi a un certo punto arriva questa sorpresa strana, curiosa, che ti sciocca. Quindi tutta l'attenzione è su di lui. Poi torna su di noi per le reazioni che noi abbiamo con lui. Lui secondo me è anche un po' infatuato di queste due donne. Si fa anche un po' prendere dalla loro bellezza interiore, da questa loro purezza direi. Parlando oggi con Gianni Clementi, che è questo straordinario autore di cui ho la fortuna che ha fatto cinque testi diversi fino adesso, che metteva in contrapposizione il paradosso di questo spettacolo è la volgarità di questo politico, incredibilmente volgare come modo di essere, come modo svivendi proprio, con l'assoluto candore, purezza di queste due prostitute che dovrebbero essere proprio loro la volgarità. Ribaltare completamente il campo è la cosa davvero interessante, la vera sorpresa dello spettacolo secondo me. E adesso parliamo della scena più divertente. Secondo voi qual è di questo spettacolo? Forse la cosa più bella dello spettacolo è avere accanto degli attori bravi. Perché io forse sono viziata, io ho recitato con i più grandi attori del mondo, posso dire. Devo dire che mi annoia il teatro, perché sento molte persone che non danno i toni giusti. Qui io ho avuto la sorpresa di avere una Patrizia Pellegrino bravissima, devo dire molto carina, molto semplice, molto umile, e devo dire la bravura assoluta di Blas. È una parte bellissima per un uomo. La persona negativa è la persona che ti rimane più impressa, perché è come se avesse più personalità. È molto strano questo, perché il buono certe volte può sembrare un po' stupidotto, ma il cattivo dice, quando un giorno un giornalista mi ha chiesto, ma lei preferisce, sempre parafrasando i grandi che ho frequentato, mi ha detto, lei preferisce gli stupidi o i cattivi? Preferisco i cattivi, perché ogni tanto si riposano. E lui, Blas, è un personaggio forte sul filo del rasoio, con un fascino incredibile. Devo dire, io sono pazza di un momento dello spettacolo. Qual è? Qual è? Siamo curiosi. È quando lui stringe il braccio di lei per farle male. Il momento invece più difficile di quando magari avete visto il copione la prima volta e avete detto, ah però, insomma, questa scena mi preoccupa, c'è oppure no? Questa scena di cui parlava, sì, lei, io quando ho letto il copione ho detto, mamma mia, ma come la faremo? Io, Blas, a parte che ci vogliamo bene, siamo amici da tanto tempo, lì ci deve essere veramente cattiveria e lui e forza sovrumana, cioè voglia di far del male a una donna, cosa che purtroppo capita nel mondo femminile. Quindi ero molto preoccupata di questa scena, invece devo dire che Luca Pizzuro, il nostro regista ha montato la scena in maniera tale in cui è tutto molto fluido, pur nel dolore che io provo in quel momento, perché non è solo un dolore fisico, ma il dolore dell'assoggettamento femminile da parte di un uomo, che ho provato sulla mia pelle, quella è una cosa che mi fa venire i brividi ogni volta che la proviamo e ogni volta che la recitiamo. Quindi ogni giorno per me sarà un po' di dolore da parte mia e per tutte le donne che in questo momento, magari in Italia, nel mondo, subiscono questi soprusi da parte dell'uomo. È una scena molto forte. Di scene che ti scioccano, se parlo del mio monologo. Un pezzo quindi molto emozionante, ed è questo monologo. Perché? Perché io lo posso dire? Sono stata violentata a nove anni e mezzo. Per cui per me è molto difficile dire quel pezzo lì. Come si fa ad essere veri sulla scena senza essere un cliché? Qua pariamo di verità pura. La cosa che ho sempre perseguito, sia da spettatore che da attore in teatro, è fuggire la noia. Se io sto in platea e mi annoio, c'è qualcosa di sbagliato. E se io annoio qualcuno, il messaggio può essere giusto, l'interpretazione può essere eccellente, ma hai sbagliato tutto. Tu devi prendere l'attenzione, prendere per mano lo spettatore, raccontargli una storia e portarlo fino a quando si chiude il sipario. Se sbagli qualcosa, sei a noi, stai sbagliando tu. Non hai scusanti, non ci sono tergiversazioni. Non è possibile. Io per quanto riguarda questo, la difficoltà è stata per l'inizio. Cioè entrare in scena e essere credibili così come sono conciato, ho detto, beh ci riuscirò, non sarà una macchietta. Spero di non essere una macchietta, anche se la parte in quel momento è molto comica. Per quanto riguarda la parte invece molesta, cattiva, ho sempre pensato che lo strillo spaventa molto meno che la calma. Uno che ti guarda e ti parla tranquillamente, ti fa ghiacciare il sangue nelle vene. Uno che strilla è un segno di debolezza, non di forza. Poi parlando degli stupidi e dell'intelligenza, mi è venuta in mente una citazione di Woody Allen che io adoro, che diceva la differenza tra uno stupido e un intelligente è che un intelligente può far finta di essere stupido. Il contrario è impossibile. Bellissimo. Parliamo del pubblico. Voi sentite il pubblico diverso ogni sera quando recitate e come modulate la vostra recitazione? Perché diversamente le repliche sarebbero noiose per un attore, invece non è così. Ma sai, ogni sera è un miracolo, ogni sera è un... Io parlo dell'artista, non dell'attore, perché l'attore può essere, sai come si dice, no? Come diceva Georges Bernaschot, attore colui il quale andando a un funerale vorrebbe essere il morto. Ecco, allora ti dico che invece l'umiltà, e l'umiltà qual è? Quella di metterti in mezzo al pubblico e recepire la sensibilità di uno solo, perché noi recitiamo per uno o per una, non per tutti, perché uno perderebbe la concentrazione. Tu vai su uno, questa è una delle regole della commedia dell'arte, ti colpisce una persona e reciti per quella persona. Lui non lo sa, ma tu lo sai. Questo è il dialogo che si crea fra attore ed è il fascino. E io credo di sentire questa cosa col pubblico. Adesso un pregio per ognuno dei vostri compagni di scena. Qual è? Allora, è difetto che lei dà troppo alle persone cattive, e invece il pregio è che dà tutto alle persone buone, per cui come vedi, come la giri giri è sempre uguale. e per Blas vorrei che mi amasse di più. Il pregio di Fioretta è la sua freschezza, la sua voglia, la sua passione, la sua tigna nell'andare in scena dopo così tanti anni come se fosse quasi un debutto, ma con l'esperienza di una vita vissuta sulle tavole. Avrei detto la stessa cosa che ha detto Blas. Eh, ma l'ho detta io purtroppo. Mi hai scippato le parole da bocca, quindi il pregio per me di Fioretta è questo. Difatti io non glielo ancora trovati, forse un po' la mentosetta. Non ti curar di lor, ma guarda e passa. Si lamenta, si lamenta. E la cosa bella di questo spettacolo sono i paradossi. Cioè, capisci che lui parla con due prostitute e le tratta come due vergini. È qui la bellezza di questo testo. È qui la follia. Gianni Clementi credo che abbia fatto una cosa meravigliosa. Perché c'è questa cosa di io che mi copro le gambe quando parlo con lui. e lui che accarezza, le tocca il seno e lei tutta così. È veramente... Arrossisce continuamente. Lei arrossisce continuamente. Proprio quello che dicevo prima. A te che hanno detto, Blas, dopo la prima, qual è il complimento che ti hanno fatto? Uno di miei figli mi ha guardato e mi ha detto a papà, basta, basta dunque. Questo? No, vabbè, io ho ricevuto tantissimi complimenti da tutti e effettivamente quello che dice Fioretta l'ho sentito sulla mia pelle e tutti mi hanno detto che ho fatto una crescita immensa e io credo sia dovuto anche a Fioretta perché la stimo molto, mi ha dato dei consigli molto validi, ho cercato di recepirli e di farne i miei ma anche lavorare con Blas per me è stata la seconda volta abbiamo lavorato già insieme è sempre una gioia. Però non eravamo quasi scene l'altra volta insieme No, non eravamo scene questa è la prima volta che lavoriamo per davvero l'altra volta eravamo in due coppie distinte invece stavolta mi sto godendo questa personalità di bravo attore molto forte come personaggio e molto bella come intensità del personaggio quindi sono felice di lavorare con loro due. Tu sai il segreto della commedia dell'arte qual è? Qual è? Non sei tu che dici le battute ma chi te le porge? Eh certo. Per cui tu me le dici benissimo anche perché sennò ti picchiavo vabbè è Blas è veramente bravo è bravo è dentro il personaggio è dentro il personaggio e io lo vado a vedere sempre quando fa la scena con te perché si trasforma tu non so se lo... Ah ecco a me è lì il fascino hai capito? Lì è il fascino perché prima questo snob questo personaggio strano politico che fa zullo perché fa zullo dalla testa ai piedi e in quella scena viene fuori a me piace da morire perché io ti ripeto io subisco il fascino della carogna Grazie mille per essere stati con noi adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte Allora intanto vi amo pubblico perché senza di voi noi non esistiamo l'attore ha bisogno del pubblico e io grazie a Dio sono viziata ho sempre avuto i teatri pieni per cui venite se non in cavolo come una iena Io ringrazio voi di averci ascoltato così a lungo abbiamo detto tante cose io ho imparato tante cose nuove perché io adoro questi due perché mi fanno sempre imparare cose nuove sono sempre una che assorbe molto e vi chiedo di venire a assorbire l'arte di questi due accanto a me ma anche un po' della mia perché io non so come c'è una magia che nasce ogni sera venite ad assaporare questa bella magia che vi ricaliamo con Donnacce fino al 12 maggio correte a Roma al Teatro Manzoni di Roma tutte le sere alle 21 tranne lunedì e il doppio spettacolo il sabato pomeriggio alle 17.30 alle 21 allora uscite da seguinte andate in platea se no non vedete un accidente grazie a tutti Grazie per la visione!